Ma le ultime novità è che in un annetto dovremmo portare tutti gli uffici che oggi sono in quattro sedi, Sant'Angelo col bordolo, Morciola e Montecchio, racionalizzando, contenendo la spesa in una struttura nuova che ha capienza per tutti gli uffici e creare una migliore distribuzione e soprattutto un miglior servizio per i cittadini che trovano un posto a tutti i servizi. E a fianco, come si vede alla scuola Federico di Montefeltro, anch'essa in legno, il comune sarà tutto in legno, predisposti più o meno come la Casa della Salute che è qui a fianco in tre piani. E quindi è un'opportunità in un luogo abbastanza centrale, a fianco ci saranno dei parcheggi e anche una nuova piazza e quindi sarà una grande opportunità per i cittadini di avere un luogo centrale. Consideriamo che la popolazione è per un buon 90% residente nella fascia che va da Morciola, Bottega, Montecchio e così via ed è un luogo anche centrale. C'è una bella sala del consiglio che può essere utilizzata per incontri, per dibattiti eccetera e soprattutto, ecco, avendo la struttura in un unico luogo, è chiaro che manterremo, diciamo, una presenza soprattutto per le persone più anziane diciamo sia a Colbordolo sia a Sant'Angelo per i tre castelli, il territorio, la parte alta del territorio però è una bella razionalizzazione, in un unico luogo uno va lì e trova tutti i servizi, quindi per i cittadini in più c'è anche un contenimento della spesa perché non c'è più questa dispersione in quattro sedi sostanzialmente come oggi e liberiamo anche un patrimonio importante che poi vedremo come lo utilizzeremo perché il comune ha circa 50 milioni di patrimonio, ecco, le quattro sedi sono tutte di proprietà del comune si tratta di vedere come le utilizzeremo, insomma, ecco, quindi mi pare che i lavori stiano proseguendo qui abbiamo anche la scuola materna a fianco, quindi la scuola elementare, le scuole medie sono qui a due passi a Pian del Bruscolo abbiamo, diciamo, la biblioteca qui nell'ex scuola nelle grotte, quindi abbiamo una concentrazione di servizi dove c'è il grosso della popolazione in più diventa un rapporto importante anche con gli altri comuni e l'esperienza del legno perché, diciamo, è una struttura che, diciamo, dovrebbe migliorare anche il comfort e quindi sarà una struttura d'avanguardia, credo che sia uno degli ultimi comuni che viene costruito in legno c'è l'esperienza di Gabicce che è sempre in legno e proprio qui di fronte alla scuola Federico da Montefetto che è una scuola in legno.